Saranno proclamate beate due laiche italiane, Edvige Carboni e Benedetta Bianchi Porro. Papa Francesco ha ricevuto ieri il Cardinale Angelo Becciu, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, autorizzando il di Castero a promulgare i decreti relative ad alcune beatificazioni al riconoscimento delle virtù eroiche di dieci servi di Dio. Tra l'altro ha confermato il culto da tempo immemorabile e beatificazione equipollente del servo di Dio Michele Gedroiz, laico professo dell'Ordine di Sant'Agostino. Edvige Carboni, nata a Pozzo Maggiore il 2 maggio 1880 e morta a Roma il 17 febbraio 1952, sin da piccola ha avuto la grazia di visioni mistiche fino a ricevere le stimmate, fece della sua vita un servizio dedicandosi in particolare ai poveri e agli ammalati. Proclamata beata anche Benedetta Bianchi Porro, nata a Dovadola l'8 agosto 1936 e morta a Sirmione del Garda il 23 gennaio 1964, affetta da poliomedite, divenuta cieca e ha vissuto la malattia nell'affidamento a Cristo. Con il riconoscimento del martirio saranno proclamati beati anche undici uomini, mentre sono dieci nuovi servi di Dio di cui sono state riconosciute le virtù eroiche.